Allora, un amicicieracci a casa, a casici, a casici, allora cercando a casa, a casa, quindi un altro atolai, che praticamente a casa, se non era il suo nome, se non era indiana, comunque ha casciato, ha casciato, l'aggettivo vuol dire una persona estragliata, questa non è estragliata, e comunque ci sono varie cose, ha casciato come le cebri, è vero che a casici stanno nella 3, ad esempio, stanno nella 3, e questa è una fórmula, wow, entré un cuore cielo, quindi la verità non abbiamo, non abbiamo un disegno di insegnanti, è vero che tanto la fia che sui, stanno tutti nella 3 o di insieme, è vero che si, loro ci hanno bisogno di insieme, sono chanati di notarci, la consenso, il presidente che sui, stanno, è vero che sia stata un atleti, invece c'era un noi a 2018, che la natura non era tradull birlikte, il design sono praticamente la ideo, non è ero che, noi stessiamo all'università, sì, io la Canada più ingrappositività, è un superiore, io non posso dire che sonoاخ Paulo, ho fatto che il Kazuo, ho visto allora il 1 Diciamo al dia in dia che la chiusa non è stata una difficoltà alla fine però anche presenta il nostro corpo all'interno e il nostro corpo e questo l'aiuto anche se con un film che si intendo non lo recomiendo e io vorrei approfondarlo, questo l'aiuto della rinforzazione e il nostro corpo sia più l'interroili, un altro corpo sia più l'interroili e il nostro corpo sia più l'interrogante e questo viene favorendo ci anche, favorendo ci la conoscenza, grazie a me che non si era più facile, la conoscenza, la prima volta dentro di noi, ma è una solita, non la sappiamo, non la sappiamo, non la sappiamo, non la sappiamo, ne sia proprio pian sur le nostre i noi HER e non lo conosco e solo cooperazione della scuola di inciente, praticamente riusciate le informazioni negative trovante domande,